Loro non hanno idea di che cosa sia successo, guarda, sono disperati, ma che cosa è successo qua? Beh, è torno Ninou. E l'amico... E ragazzi, come va? Io sono PieriNiki. E io sono Steffa, che stai giocando GTA 5. E benvenuti in un nuovissimo episodio di GTA 5, in cui Steffa, anche oggi, avremo a che fare con le leggi. Lo so, però avremo a che fare con le leggi in modo molto diverso, dato che questa volta non saremo noi essere messi alla prova. L'abbiamo già fatto. Fer è stata messa alla prova ed è andata malissimo dimostrando che è una criminale terribile. Non è vero! Io sono stato messo alla prova e ho dimostrato di essere il cittadino più modello di tutta Los Santos. E non è vero neanche questo. A questo punto vogliamo mettere alla prova qualcosa di un po' diverso. Vogliamo mettere alla prova la polizia. Quindi, quest'oggi, noi metteremo alla prova la polizia per vedere quante leggi infrangono. Io sono molto curioso di questa cosa. Allora, secondo me tante, perché più di una volta ci è capitato di vederli fare cose molto ambigue, molto strane. Quindi, secondo me, non si riveleranno proprio sicuri, proprio dei veri poliziotti, Steff. Ok, anche secondo me, anche io, questo presentimento faremo diversi test e partiamo dal seguirli e vedere come guidano per vedere se, appunto, anche mentre guidano infrangono alcune leggi. Ok. Dopodiché avremo diverse prove molto interessanti da fare alla polizia. Ok, Fer è, ho chiamato una patuglia. È il momento di seguirla. Allora, buongiorno poliziotteam. Andate pure, c'era un'emergenza, ma è scappato via ladro. Sì, esatto. È tutto a posto adesso. Ok. Si stanno accertando, giustamente, che l'emergenza non ci sia più. Molto professionali. Ok, e sono ripartiti. Si fermano, per fortuna. Almeno i semafori li rispettano. Non rispetta molto la distanza di sicurezza, Steff. La sto fassurando, vero? Guarda le macchine alla nostra sinistra e guarda loro. Cioè, mi sembra un po' troppo appiccicati. Sono un po' presuntuosi, sì. Attenzione, va a destra. Guarda come corrono di più. Stanno accelerando, eh. C'è da dire questo. Ok, bravi. Dimmi che non c'è di nuovo il rosso. Dai, ma vabbè. Però io volevo fare un po' di strada, vedere cosa succedeva e invece niente. Però si attaccano sempre. Questa è una costante. Però qualcosa di più divertente, por favor. Ok, finalmente stanno camminando un pochettino. Vediamo. Aspetta, però. Aspetta. Ma. Allora, quello ci si è... Ha bruciato lo stop. Si è frenato proprio inchiodando all'ultimo. Non lo so, eh. Non è andato molto bene. Lo stop non è andato molto bene. Allora, i semafori li rispetta. Li stop, così, così. Allora, Fede. Io mi sono rotto le scatole di vederli fermi nei semafori. Quindi inizio i miei test. Vai. Se io faccio un incidente con una macchina davanti a loro. Ok. Ok. Loro fanno qualcosa o gli incidenti li accettano. Se io faccio così. Anche sfrecciando, Steph. Cioè. Ne ha approfittato per andare ancora più veloce al semaforo verde. Da serio? Ce ne è uno in meno. L'unica cosa che successe è quella. Allora. Sì. Riproviamo. Perché mi sembra giusto riprovare. Allora, signor poliziotto. Quella a fianco. Che magari quella di fronte non l'hanno vista. Vai, Steph. Cioè. Di nuovo. Beh, è passato. Aspetta. Aspetta. Ok. Sono passati con rosso e si sono fermati. Ok. Perché hanno capito. Quindi questa volta l'hanno visto. L'hanno visto. L'hanno capito che c'è stato un incidente. Certo. Il discorso è che questi qua si stanno mettendo a controllare cosa è successo quando io gliel'ho fatto di fronte. E non hanno idea. E tu non hai. No, non ne abbiamo. Perché io sono nel veicolo con te. Quindi non abbiamo neanche le stelline. No, loro non hanno idea di che cosa sia successo. Guarda, sono disperati. Ma che cosa è successo qua? E tornano in auto. E l'amico. Tutto in regola. No, mi prego. Ci dili. Ho portato. Oh. L'hanno ucciso. E gli sta rubando l'auto. Tutto in regola. Tutto in regola. Mi sembra. Che fa? Che corri indietro e non sai neanche guardando sti auto. Adesso va avanti. Ok. Ok. Hanno ucciso la signorina. No, ma hai capito. L'ha uccisa. L'ha buttata fuori dall'auto. L'ha buttata fuori e continuava a infierire sul cadavere, Stef. Ha continuato a infierire e poi stanno... Allora, adesso voglio vedere come reagiscono. Uno risale in auto. L'altro sta chiamando, secondo me, i rinforzi. O forse è un'ambulanza perché appunto c'è stato l'incidente. Però ha deciso quello lì, sentendosi in colpa per quello che ha fatto per aver infierito su un cadavere, di andare via, di mollare il compagno, ma poi riscendere dall'auto. Io stavo facendo dei test per vedere se infrangono le leggi, ma qua è più un test per vedere se sono sanni di mente. Ok, comunque è arrivata anche l'ambulanza, mi sembra giusto perché ci sono delle persone che hanno bisogno di soccorsi. Sì, ma dovete arrestare la polizia, è stata la polizia. Ma lui è tornato a investigare sul primo decesso. Eh beh sì, chissà chi è stato, non ho visto niente. Fanno pure gli gli orli, capito, Stef? Aspetta, aspetta, aspetta. Guarda, no dai, non è possibile. Ma cosa sta succedendo qui? Ma perché? Ma cosa succede in questo gioco? Perché, Stef? Allora, Fere, per ora stanno andando malissimo. Voglio vedere invece che cosa succede se in pieno centro io chiamo un rapinatore che ti, diciamo, ruba tutto quello che hai. Beh certo, quella deve fare il rapinatore. E c'è la polizia vicino. Ok. Ok, voglio vedere, l'avevamo già fatto in un si può fare, però voglio vedere se almeno in questo caso si comportano bene. Ok, guarda come sono arrivati sgomando questa volta. Guarda lì, chissà se sono gli stessi. Sì, c'è la polizia qua. Ok. Il rapinatore sta tardando ad arrivare. Eh, ho notato. Ci sta mettendo... Oh, ecco la! Ok, la polizia era davvero vicina. Non l'hanno visto, cioè è impossibile che non l'abbiano vista. Beh, le davano alle spalle, sai. Non guardano gli specchietti. Questi cosa hanno? Solo la visione frontale. Non vedono dietro di loro, non vedono a fianco a loro. Cioè, com'è possibile? Io mi sono guadagnato 5.500, quindi grazie polizia. Scusa, Steph, devo fare una cosa. Eh no, non possiamo lasciarla così. Ecco, ho fatto. Polizia! Me li devo riprendere. E adesso a me la polizia, capito? Vengo derubata, reagisco giustamente, perché è giusto reagire quando vieni rapinato. E se la prendono con me questi qua, non va bene. Non va bene, non sono efficienti. Allora, quindi hai una stella di polizia? Sì, sì, esatto. Perfetto, dato che è una stella di polizia, voglio vedere cosa succede. Se tu... È giornata oggi. Ecco, perché hai iniziato a picchiarti? Non lo so, cioè l'hai visto che non ho iniziato io. E poi scappa. Aspetta, ormai, scusami, eh. Bisogna finire il lavoro che si è iniziato. Sì, ma noi stiamo vedendo come reagisce la polizia e la polizia si rispetta le leggi. Quindi per favore smetti di fare il tuo caos solito. Non sono io! Da cittadina. Allora, abbiamo visto tutti che non è stata colpa mia, Steph. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Veloce, prima che ti spari, no. Qui sotto, qui sotto, qui sotto. Volevo dire, voglio vedere come reagiscono se tu hai chiaramente un ostaggio. Ok. Chi sarebbe l'ostaggio? Questa signorina è qua. Ah, ok. Ok, quindi adesso tiri fuori un fucile e le miri e le fai paura. Ok, vai. Ok. Ma scappano. Eh, sì. Una che non scappa. Questa qua, questa qua si è bloccata. Sei incastrata! Ok. Eh, no, ce l'ha fatta. Ho pensato a un civile che effettivamente resta fermo quando lo minacci, ed è lui, Fede. Quindi, tira fuori la tua arma, minaccialo, però avvicinati a lui in modo tale da essere nella stessa linea d'aria in cui ti potrebbe sparare la polizia. Quindi io ti consiglio di venire qui alla destra. Ok. Qui, continua a mirarlo però, eh. Ok, sì, 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 non mi sto fermando, Steph. Ok, e resti così. Ma non è che poi mi spara lui? No, finché lo miri no. Hai le stelle di polizia, giusto? Sì, due. Ok, ok, allora tu resta così, aspettiamo che arrivi la polizia, e vediamo se rischiano di far morire un povero innocente. Aspetta che mi prenda anche i soldi, già che ci sei. Non ce l'ha bisogno. Un povero innocente pur di ammazzare a te. Vediamo un pochettino. Immagino che stiano per arrivare. Io ho paura che mi spari da un momento all'altro, Steph. Ma Fede, sinché secondo me lo guardi... No, sta scappando! Aspetta, aspetta, aspetta. Ma perché ti avevano sparato? Mi hanno sparato? Sì, sì. Si è nascosto qui dietro e sta piangendo, Steph. Sì, sì, mi sparano, mi sparano. Non gliene frega nulla se tu puoi ammazzare un povero civile. Loro ci sparano e neanche ci pensano. Sono curioso di vedere anche... Consolini, l'avete visto? Avete visto? Mi sono messo nella linea d'aria di fuoco e mi hanno colpito anche se sono innocente. Cioè, se non è questo, infrangere la legge. Guardate, mi ha colpito di nuovo! Finiamo questa cosa, Steph, finiamola. Cioè, non è possibile, non gliene frega nulla. Loro, quando hanno un obiettivo, se ne fregano di tutto quello che c'è. Dattorno, che siano civili, che siano persone normali e per bene. Guarda, 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 questo qua è il mio sangue. Loro stavano sparando a te, mi sono messo in mezzo e mi hanno colpito. E adesso stanno sparando dei civili a caso che stavano scappando, spaventati dai loro fucili. No, ma sono terribili. Cioè, non si avvicinano neanche al concetto di efficienza qui, Steph. Ma proprio lontanissimi. Ma soprattutto al concetto di rispettare le leggi. Cioè, sta roba è abuso di potere. Ma come si può fare una cosa del genere? Assurdo. Guarda, Fede, qua si gioca a bullying, eh. Pronta? Vai! Fuoco! Ma dai! Cioè, becchi quel fuoco. Il cassonetto doveva essere proprio lì, eh. Vero? Ok, però adesso lo prendo per forza, è impossibile mancarlo. Dai, dovresti. Vai. Non ho stelle. Qua si meritano un applauso, eh. Perché sono davvero, davvero fenomenali. Allora, c'è da dire che più che testare, se rispettano le leggi, devi testare quante risate ti fanno fare. Perché penso che sia l'unico... Io volevo fare un video serio, ma me l'hanno proprio smontato. Metro di giudizio che puoi usare con questa polizia, Steph. Dammi un attimo, vedi che c'è quello che sta chiamando? Se io faccio un domino di auto, conta che l'ho investito? No. Perfetto. Finché non prendi tu le cose direttamente, va tutto bene in questa città. E loro accettano di farsi lanciare auto della polizia, che tutto va bene, Steph. Ok. Ciao polizia, dopo. Voglio fare un ultimo test, Ferre. Ok, vai. Se io blocco tutta la strada così, e loro ovviamente li ho chiamati, quindi devono passare di qui. Ok. Lo spero. Rispettano le leggi e ci chiamano caratterizzi, eccetera, eccetera. O vanno contro mano pur di passare ciò che io penso e infrangono l'ennesima legge, ovvero una legge stradale? Sì. Cioè non gli hai fatto né caldo né freddo, non gliene frega nulla. Sì, 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 sì. Neanche ci hanno pensato. Ribloccali di nuovo, vai. Stai di fronte all'ore, vediamo. Vediamo. Però penso che semplicemente ti schiveranno. È difficile schivare. Ecco, infatti, volevo vedere questo. Allora, prima sono andati contro mano, adesso sono andati contro mano ed hanno pure sbattuto su una macchina senza fermarsi per parlare dei danni. Non rispettano stop, non rispettano... Che fanno adesso? Hanno inchiodato. Ok, in mezzo alla strada. Eh, magari c'era una formica, non volevano... Eh, sì, sicuramente era quello. Loro sono persone per bene che rispettano ogni legge. Vede, sono tentato di fare una cosa, posso? Vai. Tutto quello che vuoi ormai. Se lo meritano. Se lo meritano. Dove sono volati per di più? Non lo so, non li ho visti. Li ho persi. Direi che li ho incastrati e che può finire il video così. Eh, però sono ancora vivi, eh. Sì, credo di sì, però... Tranquilli lì dentro. Oh, no, no, no. Aspetta, vogliono uscirne? Sì, 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 sono usciti. Guardali, guardali! Me ne vado via! Era ovvio, li ha incastrati! Guarda, stanno sparando civili! Come sempre! Se li ho ribeccati a sparare altri civili! Vabbè, addio poliziotti! Perchè, se li lasciate, lasciateci un like! E se la prima volta che vedete il nostro video, potete considerarli da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! 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 Ciao!